Adesso Silvia c'è proprio un approfondimento che ti riguarda in prima persona, stiamo parlando di Biglietto da Visita. Biglietto da Visita, questo programma, questo 20 minuti così particolare dove veramente ha fatto delle chiacchiere con grandi artisti. Oggi abbiamo, posso dirlo? Certo, certo. Shell Shapiro, Shell Shapiro veramente è tutto. Lui non si definisce maestro, adesso lo ascoltate, però è veramente un maestro perché è attore, produttore. Ha prodotto Mia Martini, Riccardo Cocciante, compositore, scritto per Mina, è veramente a 360 gradi. Vediamo insieme l'intervista e poi la commentiamo. Ok. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica settimanale Biglietto da Visita. L'ospite di oggi è veramente una persona eccezionale, è un cantante, attore, produttore discografico britannico che con The Rockers ha venduto oltre 5 milioni di dischi. Io andrei subito, subito a presentare il nostro ospite. Benvenuto maestro Shell Shapiro. Come sta? Ma allora ci diamo del lei o ci diamo del... Ci conosciamo da troppi anni adesso, io sto bene, grazie, vedo che tu stai bene, sei in forma, perfetto. Grazie. No, 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 quindi se il suono regge andiamo avanti a chiacchierare. Perfetto, questa è la cosa più bella perché era da tanto che io facevo, avevo bisogno di chiacchierare con te. Innanzitutto grazie, grazie della tua presenza che per noi è veramente molto preziosa. Vado subito con la prima domanda. Chi è, per i nostri telespettatori, Shell Shapiro? Tutti lo sanno ma la persona lo sa solamente... Ma forse Shell Shapiro non sa chi è, non so. Mi sembra che oggi come oggi è anche illecito, credo, non sapere più chi siamo. Siamo in un momento di confusione sociale, credo. Però per semplicare, diciamo che Shell Shapiro... In inglese c'è un'espressione bellissima che si dice Jack of all trades, master of none. Che vuol dire che fai un po' tutto, perché sai fare un po' di tutto, ma non sei maestro di niente. E certe volte mi sento un po' in quella categoria lì. Poi ogni tanto mi devo dire, ma non diciamo sciocchezza, che in qualche cosa lo sai fare. Però in grande linea questo è, insomma. No, 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 sai fare veramente tutto. Sei ancora oggi un grande, grande artista. Shell, mi puoi raccontare da londinese come sei arrivato in Italia? In treno. Mi fai morire. Così ho evitato tutta una storia lunga e noiosa. Noi vogliamo sentire quella storia, perché è importante. Ma guarda, la storia è anche quella che è abbastanza semplice. Ero in Germania, ad Hamburgo, in uno di questi locali che si chiama Top Ten, e riceviamo una telefonata dal nostro agente, diciamo produttori. Oggi si direbbe produttori. Allora era un agente. Diceva, volete fare quattro settimane in Italia accompagnando un cantante? Diceva, vabbè, andiamo in Italia per quattro settimane. Ed eccoci qua. Ah, fantastico. Dai quattro settimane poi è arrivato tutto il suo periodo qui, tra concerti, sia come produttore, come attore. Ha fatto tanto, tanto e di più. Sì, è stato, guarda, è stato. Tra l'altro, cioè, sembra una storia lunga, ma sì, per certi versi lui, la vita, la storia della vita è sempre lunga. E in genere, però, la storia della vita è sempre molto semplice. Noi siamo arrivati in Italia per quattro settimane. Per fortuna qualcuno, uno che lavorava con Teddy Reno, è venuto a vederci in un teatro a Roma, ci hanno detto, volete accompagnare, fare un tournée, accompagnando Rita Bavone. E noi abbiamo detto Rita T, perché non sapevamo chi fosse. Abbiamo fatto un po' di mesi con Rita, dopodiché ci siamo lasciati, abbiamo fatto i primi dischi. Poi abbiamo aperto il Piper Club a Roma, in febbraio del 65, e tutto il resto è in noia. Ecco, dopodiché è diventato una roba bella, ma a raccontare è così noioso. Eh vabbè, però, era un periodo anche... Cioè, io credo che ci sia tanta differenza tra gli anni che tu hai vissuto musicalmente e di oggi. Quindi, che differenza... Tu che hai vissuto questo periodo, c'è molta differenza di musicalità, anche di genere e di come si vive la musica oggi? Allora, la differenza che si percepisce di come si vive la musica, secondo me è semplicemente perché non abbiamo più vent'anni. Io credo che i vent'anni di oggi vivano la musica esattamente come lo vivevamo noi allora. C'è una cosa che trovo che è molto diverso. Allora, negli anni 60, 70, fine anni 80, tutto sembrava così lontano, così intoccabile. e invece avere successo era semplicemente un fatto di lavorare molto e essere bravi, chiaramente. Oggi sembra tutto molto più vicino, molto più addosso alla possibilità di successo, ma credo che sia molto più difficile oggi. È più difficile oggi, giusto? Penso di sì, penso di sì. Penso che questo essere d'appetuto tra i social, le radio, la televisione, i clubs, è difficile essere focalizzato su un pubblico. Hai sempre questi sentori che mancano qualcuno. Però io penso che voi grandi artisti di quell'epoca ci siete ancora oggi, ma i ragazzi oggi dopo un brano che diventa popolarissimo si potrebbero anche bruciare e terminare il loro cammino. Come mai questa... Può essere anche il social stesso che può far nascere un artista e poi bruciarlo contemporaneamente dopo poco tempo? Guarda, i tempi cambiano, la vita cambia, la storia del mondo cambia. È un po' vero quello che tu dici, ma anche allora c'era una quantità di ragazzi della mia età di allora che facevano un disco e poi sono spariti, sai? Quindi non trovo che è cambiato molto in quel senso lì. Ci vuole un po' di talento, ci vuole molto, molto... scusami la parola... Ci vuole culo, cioè anche ci vuole lavoro, ci vuole determinazione, ci vuole convinzione, ci vuole anche la magia del mondo che ti aiuta, che ti spinge avanti. Sì. Questo mi viene adesso... Ti lascio senza parole. Come? Ti lascio senza parole. No, no, ma anche perché stai dicendo delle cose veramente talmente importanti perché i ragazzi che ci seguono, tante volte io chiedo ai nostri ospiti di dare un consiglio a questi ragazzi, come muoversi, perché veramente oggi ci sono tanti ragazzi diciamo che vogliono studiare meno gli strumenti musicali ma vogliono più cantare pensando che il canto sia un qualcosa di facile, raggiungibile in maniera molto facile perché ci sono i social, oggi tutti cantano e tutti si vedono su TikTok, Facebook e Instagram. Un consiglio che dà a questi ragazzi per percorrere la strada giusta, quale può essere da parte del maestro Shershapiro? Maestro Shershapiro? Per me è un maestro! Ok, grazie. Io non credo che ci siano consigli. Bisogna fare... Allora, se lo stai facendo per soldi è meglio comprare i bitcoin. Se lo stai facendo per passione non hai bisogno di consigli. Cioè, la passione ti segna la strada, ti indica dove devi andare, ti indica con chi devi parlare, ti apre le tende sul mondo, hai capito? Non c'è la determinazione con il talento e la convinzione interiore. È una buona dose di autocensura, anche di autocritica. Sapere se hai numeri o no, perché ognuno di noi dentro sa se si sta illudendo o se hai numeri veri. Eh sì, eh sì. Eh, ha proprio ragione. Nel 1977 tu hai fondato una casa discografica. Chi sono questi personaggi che è riuscita a portare al successo? Beh, in quel momento lì abbiamo prodotto Ferradini, abbiamo prodotto Ron, poi io stavo producendo Coccianti in quel momento, mio socio Colombini stava producendo Lucio Dalla, Lucio che era, era un momento molto, molto creativo. Era un momento anche quando si stava aprendo anche il mondo. Eh, siamo stati assecondati dall'arrivo della televisione a colore, delle radio libere, delle televisioni libere, anche, ehm, cioè stiamo parlando dei primi anni anche di, di, del mondo di Berlusconi, quindi era un momento in esplosione. Eh, quindi... Molto fertile. Scusate? Sì, assolutamente. Molto fertile. Sì, sì, sì. Molto fertile, molto, ehm, e devo dire, a differenza di oggi, oggi mi sembrano tutti incazzati, non so, invece allora tutti sorriderono, tutti, tutti erano felici di, di esserci, hai capito? Di essere. Eh, e questo, credo che questo è una, è un po' un problema italiano in questo momento, perché se vai su a Londra o vai in, in altri paesi la gente è più sorridente, meno, meno disposta a litigare, cerca di essere più, più lieve, perché il mondo deve essere lieve, perché se no diventa, abbiamo già abbastanza drame intorno a noi, senza aggiungerci noi in prima persona. Sì, ma io credo anche che in Italia il mondo della musica viene rispettato molto meno dagli altri posti all'estero. Pensi alla stessa cosa? Non, non ti so dire, Silvia, perché io non, non è adesso che io lavoro quotidianamente con il mondo della musica, ehm, io, io lavoro con il mondo in qualche modo della comunicazione, però vedo che per esempio, ehm, allora ho visto l'Eurovisione l'altro giorno. Sì. Eh, è molto difficile capire eh, dove sta la musica o dove sta andando la musica. Perché una volta ehm, era necessario avere delle bellissime canzoni, adesso sembra che devi avere ehm, che ti posso dire Cirque du Soleil sul palco scenico con te, hai capito? Eh, quindi è molto difficile fare un'previsione di ehm, di dove finiremo. Io, io non capisco come un ragazzino di quattordici anni, quindici anni che pensa di cantare, che pensa di suonare, ehm, imparare a suonare, può, eh, fa punto di riferimento all'Eurovision, hai capito? È come uno che dice, ok, faccio riferimento a Coldplay quando fanno un concerto, e dice, ma è talmente lontano dalla vita quotidiana di un musicista. ehm, cioè non è che devi fare quello per guadagnare da vivere, devi essere bravo, devi essere, devi essere, ehm, devi avere quello, il famoso X-factor, sì, lo devi avere in qualche modo, ma non c'è bisogno di tutta l'apparenza, c'è bisogno del cuore, c'è bisogno dell'anima, c'è bisogno dell'emozione, non c'è più, non c'è più, nessuno può, sì, nessuno può costruirti l'emozione intorno, o tu ce l'hai e lo regali a chi ascolta, se no è inutile che fai questo lavoro. Guarda, mi hai fatto venire veramente la pelle d'oca, perché io questo, eh, lo dico sempre, oggi è tutto, la musica è diventata tutta troppo fredda, e quindi tanti virtuosi, però, eh, come diceva il grande Gorni Kramer, che io ho avuto l'onore di conoscerlo, eh, la musica sono come un, una collana di perle che si rompe, nota per nota, e quello è il difficile, non è tanto la, la agilità, eh, farsi notare, ma quelle poche cose e che non si studiano, bisogna veramente averle dentro, come hai appena finito di dire tu. Eh, come autore, anche attore si è stato, quindi sei un maestro a 360 gradi, Shell. Ma quello non è, quello non è mai, non è mai, è molto perfetto. Quello è divertimento, quello è divertimento, hai capito? No, ma è così, è così, sei stato anche un attore, hai fatto un film con Cocchi e Renato, giusto? Se dico? Beh, guardo, ho fatto, sì, l'ultimo che la gente ha visto era quello con Fabio De Luigi e Michela, Michela, ti presento Sofia, quindi, Michela Ramazzotti intendo, e quindi, ogni tanto faccio quelle robe lì, ma è divertente perché ti permette di non essere più te stesso, capito? quindi, sei la parte di uno stronzo, allora, a me viene particolarmente bene, devo dire, No, sai. Allora, io, ah, una cosa importante, prima di salire su un palcoscenico, hai qualche gesto scaravantico? No, no, concentrazione, no, quando avevo 18 anni, sì, adesso uno, uno, dice, ok, mi ricordo tutto, mi ricordo tutto quello che devo fare, non sta lì a fare i gesti scaramantici, controllo che ha le penne in tasca per suonare, che ha un fazzoletto, che ha, non so, le cose molto più essenziali, insomma. Andiamo ad oggi, progetti, i progetti di Shepera, quali sono? Progetti attuali? Allora, i progetti, i progetti, allora, i progetti sono difficili, perché io ho dei progetti, ma, è anche vero che c'è un, c'è un diffidenza in, a fare un progetto di gente della mia età, tanto per cominciare, perché, ma perché, ma per tutti i motivi, cioè fare un elenco sarebbe assurdo, ma per i motivi che, tendenzialmente vogliono che tu sia in televisione quattro giorni a settimana, che sei in radio cento volte al giorno, in qualche modo, che non riguarda tanto la mia generazione e le generazioni, ma non solamente la mia generazione, anche di generazioni più giovani di me. quando producevo Riccardo Cocciante o Mia Martini, queste gente qui, andare in radio era scontato, adesso io vedo che anche Riccardo fa un disco nuovo, ma non va in radio, la gente non è che dicono c'è un nuovo disco, cioè è passato, si fa un altro tipo di lavoro, quindi io ho dei programmi di teatro, due, sto lavorando su una, diciamo, una cosa di teatro canzone, che è male, è più un concerto rock in teatro che racconta il mondo però della musica, quindi avevo già fatto una cosa così con Edmondo Berselli nel 2007, 2008, che era bellissimo e allora stiamo lavorando su, non una nuova versione, ma su una cosa che segue quella stessa direzione, insomma. Wow, fantastico, fantastico. Lo sai Shell che siamo, stiamo per concludere, perché i 20 minuti sono volati. Sì. Ti sei accorto? No, io non stavo contando, io non conto mai il tempo. Io trovo che... Devo contare... Io potrei anche offendere, sai, non... Ma io sono veramente triste. Io non conto, uno non deve contare il tempo, non deve guardare troppo l'orologio, ma lo so che i sponsors, pubblicità fanno tutte queste... Rendono tutto molto più equilibrato e certe volte è così bello quando non c'è equilibrio. Ecco. Bravo. E infatti io sono veramente molto triste, però, come con tutti, io ti chiedo... Ma stai, non sei molto triste, stai ancora sorridendo. No, sorrido perché devo sorridere, ma sono triste. Sono triste perché volevo parlare ancora di più con te, però poi ti chiamerò al telefono. Ti chiederemo un'altra volta. Dai. Servio, grazie. Ti ringrazio però, l'ultimo desiderio. Mi puoi dedicare un pensiero per me? Un pensiero? Un pensiero? Sì. Guardarsi nello specchio e non i ripassaggi dalle cose che fai in televisione, che è molto più bello quello che sei nello specchio che non quello che sei in televisione. Sei un amore, grazie Shell. Un bacio grazie. Con tutto il cuore. Un bacio forte, forte, forte. A voi. A te. Vi ringrazio i nostri telespettatori e vi auguro una buona estate perché per noi è l'ultima puntata. Un abbraccio da me e un ciao forte, forte da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.